Ciao bimbe, ciao bimbi! Allora, abbiamo letto la storia Il Giardino di Matisse, dove abbiamo visto le opere che realizzava questo famoso artista francese. Ve le ricordate? Adesso vi faccio rivedere qualche immagine. Vi ricordate queste forme che disegnava Matisse? Alcune ci ricordano le forme delle foglioline, altre forme un po' più strane. E queste andavano poi a creare le sue bellissime opere. Allora, oggi proviamo insieme a creare il nostro quadro di Matisse. Ok? Questo è quello che ho creato io. Adesso vi do tutte le indicazioni per crearne uno simile. Ci serve innanzitutto una scatola, quindi cercate in casa se avete una scatola vecchia, che ci servirà poi appunto per assemblare tutti i vari ritagli e creare il quadro. Oltre alla scatola ci servono dei fogli bianchi a quattro, dei pennarelli colorati, oppure se non avete i pennarelli o vi piacciono di più anche le tempere, oppure vanno benissimo anche le matite colorate. Successivamente, prendete il foglio bianco, lo piegate a metà e potete disegnare le forme che abbiamo visto nel libro di Matisse. Potete anche inventarle, vi potete far aiutare da chi vi sta tenendo compagnia in questi giorni a casa, dai vostri fratelli, dalle vostre sorelle. Ok? Una volta che avete disegnato le forme, le colorate e una volta che l'avrete colorata, adesso vi faccio già vedere il risultato, la ritagliate. Mi raccomando, lo scarto non lo andiamo a buttare perché ci servirà anche questo per realizzare il nostro quadro. Quindi, prendete il vostro scarto e lo colorate del colore che più vi piace. Adesso io vi faccio già vedere quello che ho realizzato. Ok, a questo punto, una volta che abbiamo preparato tutti i nostri ritagli e i nostri scarti colorati, li prendiamo, prendiamo la scatola, e con la colla stick iniziamo a creare il nostro quadro. Ecco, io ne avevo già attaccato uno perché vi consiglio, vi suggerisco anche di utilizzare le pareti della scatola. qui naturalmente li mettete secondo vostro gusto, secondo la vostra fantasia e questo sarà il risultato finale. Io ho fatto anche un ritaglio, l'ho messo anche così, si dice, in versione tridimensionale. Ho usato un cartoncino, vedete, affinché potesse stare su. Niente, a questo punto io vi auguro buon divertimento e ci vediamo presto. Ciao, ciao, ciao.